Buonasera, oggi venerdì sera finiamo la settimana con un allenamento di braccia come una volta partiamo con un super set precipiti bicipiti singoli entrambi e questo è più un avvicinamento barra warm up per gli esercizi prossimi che un esercizio vero e proprio però partiamo subito, sono già scaldato ovviamente con i ferutatori, le spalle, le solite cose sono già fraido infatti, sono mollo, mi sono scaldato un quarto d'ora, sono mollo detto questo e voi direte ti scaldi anche per le braccia? si ragazzi scaldatevi sempre anche se ci sono 40 gradi non cambia un c***o mi raccomando, detto questo come potrete vedere i precipiti li farò verso il lato spero qualcosa vediate tabella cambiamo un po' la traiettora rispetto al solito movimento tutto questo mi sono fatto i capelli con la lametta tipo due giorni fa neanche e sono già cresciuti quindi è insensata come cosa è già mollo ragazzi sono mollo c'era anche l'altro big prima ma è andato via che aveva una cena e dopo andiamo a lavorare assieme dopo a fine video in sto video mi metterò una clip di mel big incompleto tutti e due che andiamo a lavorare allora passiamo direttamente a 30 veramente mollo ragazzi mollo ok qui facciamo solo due serie quindi un'altra detto questo volevo cambiare un po' in quadratura e l'angolazione dell'inquadratura però purtroppo per questo esercizio è veramente una m***a in prenderlo specialmente quando sei da solo detto questo questa serie deve essere bella ignorante quindi un po' in quadratura Oh 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 Adio Adio Va 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 Ok Cambiamo Ora passiamo a un push down però non con le corde ma con la sbarra e poi il superset con il macchinario dei bicipiti Detto questo è una vita che non faccio le braccia da solo infatti è un allenamento che come chi mi segue sa che mi piace però purtroppo Nella programmazione precedente non l'avevo quindi oggi mi diverto Ok partiamo con un peso e moderato una sessantina di chili facciamo max quelle che abbiamo e le prossime serie Alzeremo il carico ovviamente le rep di Winduramno stessa cosa faremo in superset con l'altro Detto questo sono da solo quindi ovviamente appena finirò la serie cambierò l'inquadratura bello appunto sulla macchina sulla scott machine come si chiama e Basta Vamos E faccio stasera che poi mi tolgo la maglia perché sto sudando cioè sono a molle Ovviamente affinché possiamo teniamo un'esecuzione quanto più pulita possibile Poi una volta andati ad aumentare il carico la sporcheremo un pochettino Oh Oh ok allora tolto anche il giacchetto detto questo qui era una 60 passiamo 80 e lì al macchino di bicipiti dai 30 siamo passati ai 35 non so se nell'inquadratura si vedeva o se ci avete fatto caso comunque l'esecuzione è leggermente diversa nella macchina di bicipiti rispetto a come la fanno la gente generalmente standard cioè prendo il manubrio il ramo solamente con queste tre dita e questo è un trick che mi ha insegnato Pica una piccola variante e in più non sto appoggiato ma mi stendo completamente sopra il macchinario lo vedrete o almeno se non ci avete fatto caso fateci caso detto questo vamos qui forse inizieremo a sporcare un po' di più l'esecuzione yes non c'è troppi ah 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 vi ricordo che se avete bisogno di qualsiasi integratore abbigliamento accessori vari per la palestra con il codice il big sul sito il video strong avete il 20% di sconto sul totale del vostro ordine ben per questa stupenda canotta se per caso dovreste comprare con il mio codice mandatemi tranquillamente una foto un messaggio su instagram in direct di modo che posso ringraziarvi personalmente e scambiare due parole tutto questo passiamo oh ragazzi non mi muovo oh ecco perché mi mancava e mi piaceva allenare le braccia sempre perché me le sento completamente esplodere terza serie e ultima qui mettiamo pacco pesi ovvero 95 ah e di là devo alzare a 40 ok 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 raga, allora passiamo a un altro superset con questo macchinario dei 3GBD fatto in una maniera diversa se lo vedrete e dei bicipiti delle corde ai cavi bassi fattiamo di martello adesso vedo adesso sistemo tutto e iniziamo allora questo macchinario non lo useremo con i comuni mortali eccoci 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 pesi qui ho due piastre caricate a lato e qui invece un 60 kg adesso qui c'è anche il boccato d'arriquistato da un fastidio se stai sotto detto questo l'ultima sera qui cambiamo poi facciamo le ultime 3 serie di un altro esercizio poi basta ragazzi yes hey ah 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 o ha ok allora oggi concludiamo con tre serie di un supers di tricipiti ovvero un push down qui alle corde con sempre french press qui alle corde su tricipiti poi passiamo a un altro altre tre serie solamente i bicipiti le facciamo normali a martello con i manubri vamos che abbiamo 60 kg osti che è il peso che usavo prima per i bicipiti che lo teniamo e vediamo di alzare ok oh 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 forza 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 oh oh ok come pronunciavo tre serie a martello poi abbiamo chiuso e' mosse oh ok ora facciamo in mezzo al corpo ah ok ah 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 ok non ho il microfono perdonatemi anche da oggi e dal vostro bigatutto ci vediamo domani con un prossimo episodio no domani domani quando ci vediamo dopo domani cioè lunedì con un prossimo episodio ciao ragazzi adesso vedrete una clip di me e Diego incompleto l'avete già visto in questo video comunque buona serata e buona giornata a tutti ciao ragazzi allora ragazzi siamo qui questo è il f*** allenamento di braccio